E' stata un'estate caratterizzata da continui divieti di balneazione vicino ai fossi scolmatori, quella appena trascorsa, ed ora che la prossima stagione turistica è alle porte, si sta cercando di risolvere alcuni problemi. Ieri pomeriggio l'assessore Samuele Mascarin e il collega Marco Paolini hanno illustrato ad una sessantina di operatori balneari i progetti che l'amministrazione Seri sta portando avanti sia sul torrente Arzilla che sul rio Crinaccio a Ponte Sasso, dove sono già iniziati i lavori. Abbiamo affrontato diversi temi, uno fra tutti quello dell'inquinamento dell'Arzilla, dove ho riportato quello che è stato il lavoro dell'ufficio ambiente in questi mesi a partire dall'assemblea pubblica che proprio con gli operatori turistici abbiamo fatto a novembre nel Consiglio Comunale e riportando il lavoro importante di analisi di campionamento che a partire da dicembre Asat S.p.A. ha realizzato in nove punti lungo il torrente Arzilla per quello che riguarda ovviamente il suo tratto fanese. Queste analisi hanno consentito di individuare le criticità lungo il corso del torrente, ha detto l'assessore, in particolare al confine con il Comune di Pesaro nelle condizioni di asciutto, mentre alla foce in condizioni di pioggia. Abbiamo condiviso poi in questi mesi alcune strategie insieme anche agli altri attori coinvolti, quindi al lato il Comune di Pesaro, la provincia di Pesaro, Marche Multiservizi, oltre ovviamente Asat S.p.A. su due livelli. Il primo al quale si riferisce Mascarin consiste nell'attivazione con i relativi all'acide il depuratore di Santa Maria dell'Arzilla. In questo modo si ridurrebbe di molto il problema dell'inquinamento. L'altro intervento invece riguarda la previsione di una vasca di prima pioggia alla foce dell'Arzilla, che nel caso di forti piogge possa stoccare le acque, tenerle in una vasca di 20 metri per 20 e profonda 3, e poi immetterle 24, 48 ore dopo, nella rete fognaria e quindi dentro un processo di depurazione. I lavori della vasca saranno diretti da Asat S.p.A., la quale ad aprile darà un incarico per il progetto di fattibilità. Questi due interventi, articolati ovviamente tra il 2015 e il 2017, complessivamente dovrebbero risolvere in maniera complessiva, noi riteniamo, il problema dell'inquinamento ciclico che si presenta al torrente Arzilla. Questa è un po' la strategia che abbiamo messo in campo, che è stata anche apprezzata dagli operatori turistici, perché per una volta non si affronta il problema quando quello si pone d'estate, ma si è cercato nel corso dell'anno di mettere in campo tutte le azioni e le sinergie utili per iniziare concretamente a risolverlo.